Ehi, non hai bisogno di tutte quelle bevande sportive, ti basterà bere del succo di ciliegie dopo il tuo allenamento. Riduce il dolore muscolare dopo l'allenamento, che di solito inizia un giorno o due dopo l'allenamento e che può essere molto doloroso. Il succo di ciliegia è ricco di minerali, vitamine e antiossidanti. Gli antiossidanti sono degli elementi che proteggono le cellule del corpo dai radicali liberi, cioè le molecole che sottraggono elettroni alle cellule, danneggiandole. Anche il succo di amarena è ricco di antociani, soprattutto se lo si confronta con altri succhi di ciliegia. Il sapore è più acido ed è responsabile del colore rosso delle ciliegie. Questo componente è importante per le sue caratteristiche antinfiammatorie. L'infiammazione che sentiamo nei muscoli dopo un allenamento ci segnala che il nostro corpo sta per dare il via al processo di riparazione. È qui che il succo di amarena entra in gioco, aiutando i muscoli a guarire più velocemente e a prevenire il loro indebolimento. Puoi prenderlo sia prima che dopo l'allenamento. Rimani idratato, soprattutto se il tuo allenamento è stato piuttosto intenso e hai sudato molto. Quando ti ricarichi di liquidi, dai maggiore forza al tuo corpo, migliori la flessibilità muscolare e riduci il dolore. Rimanere idratati aiuta con la crescita e la guarigione dei muscoli. Dopotutto il nostro corpo è composto per il 70% di acqua. Oltre al succo di amarena, puoi bere acqua, tè nero e verde, acqua di cocco, latte al cioccolato o delle bevande sportive a basso contenuto di zuccheri. Questo tipo di bevande contiene elettroliti, elementi che rilassano i muscoli. Sembra ovvio, ma sì, la dieta è essenziale. Non saltare i pasti, anche se vuoi perdere peso, perché in questo modo perdi solo tono muscolare. Devi fare l'esatto opposto. Devi mangiare in modo adeguato a sviluppare la muscolatura e accelerare il metabolismo. Alimenti ricchi di proteine sono quelli di cui hai bisogno per costruire e recuperare la muscolatura, quindi opta per carne, latticini, uova, noci e legumi. Oltre a pasti più abbondanti, scegli degli snack post allenamento che non contengano troppe calorie. La terapia del contrasto è un'altra cosa da fare dopo un allenamento. È un gioco da ragazzi. Per prima cosa fa una doccia piuttosto fredda, poi fanne una calda e ripeti più volte. Delle ricerche hanno dimostrato che questo tipo di terapia allevia i muscoli doloranti e riporta il corpo in carreggiata. Il foam roller è uno strumento automassaggiante. Una ricerca ha dimostrato che gli atleti che hanno usato il foam roller sui muscoli posteriori della coscia dopo aver eseguito diverse serie ripetizioni avevano meno problemi di indolenzimento muscolare rispetto a quelli che non lo facevano. Stimola il flusso sanguigno nelle aree che massaggi con il rullo, il che alla fine aiuta a portare importanti nutrienti al tessuto muscolare. Puoi anche usare il foam roller prima di un allenamento, quando vuoi scaldare un po' i muscoli, ma è un'ottima scelta dopo l'allenamento. Passalo lentamente su quei muscoli che senti più tesi e, se senti dei punti dolenti, tienilo lì per 20-30 secondi prima di passare a un'altra zona. Anche il recupero attivo, ovvero l'esecuzione di allenamenti a bassa intensità in cui non dovrai sudare molto, è un'opzione. Può essere yoga, jogging, passeggiate o nuoto, niente di troppo difficile. Anche se la cosa più ovvia da fare è dare un po' di riposo ai tuoi muscoli, rimanere attivi è altrettanto importante. Mantiene il flusso sanguigno attivo, il che aiuta il corpo a riprendersi dagli esercizi più intensi e, allo stesso tempo, non metti un forte sforzo sulle articolazioni e sui muscoli. Aiuta i muscoli a rimanere più flessibili, riduce il dolore ed elimina le tossine. Inoltre, se rimani attivo nei tuoi giorni liberi facendo degli esercizi a bassa intensità, ti sentirai molto meglio. Ehi, anche pulire il tuo appartamento è una specie di allenamento a bassa intensità. Quindi, metti la tua playlist preferita e datti da fare. Una standing desk contribuirà molto ai tuoi allenamenti. Dal momento che ti alleni, sarebbe meglio non cadere nella pigrizia. Se rimani seduto per molto tempo durante il giorno o al lavoro, allora opta per una scrivania con altezza regolabile per correggere la tua postura. Prova a fare cose divertenti, come una verticale. Io passo, grazie. Certo, inizialmente dovrai farla contro un muro e non sarà perfetta, ma potrai monitorare i tuoi progressi e testare la tua forza e la tua mobilità. Dopo aver finito, fatti una bella doccia e cambiati i vestiti per eliminare tutti i germi. Il nostro corpo ha uno strato protettivo oleoso chiamato sebo. Se combinato con le cellule morte della pelle, può ostruire i follicoli piliferi. Quindi, non tenere per troppo a lungo i vestiti sudati con cui ti sei allenato. Preparati bene prima di un allenamento per evitare infortuni e prepara il corpo ad attività fisiche intense. Quando ti riscaldi, concentrati prima sui gruppi muscolari più grandi, come ad esempio i muscoli posteriori della coscia. Inizia con un ritmo basso e lento, aumentando gradualmente la dinamica e andando più veloce, mettendoci più forza. Puoi iniziare con 5 minuti di attività a bassa intensità, come fare jogging sul posto, camminare, andare in bicicletta o fare esercizi cardio, come i jumping jack. In Svezia sono chiamati jumping jack. Dopo, il tuo corpo dovrebbe essersi scaldato. Dovresti sentirti energizzato, avere le articolazioni più mobili e sarai pronto per l'allenamento. Non dimenticare di fare stretching. Di solito, dovresti farlo dopo l'allenamento, non prima, perché il tuo corpo si è già riscaldato. Motivo per cui vuoi rinfrescarlo. Inoltre, i movimenti sono più ampi. So che molte volte si salta del tutto, soprattutto se si ha poco tempo dopo un lungo allenamento. Tuttavia, lo stretching riduce la tensione muscolare e aumenta la flessibilità. Puoi monitorare la tua flessibilità muovendo le articolazioni in una direzione e vedere fin dove arrivi. E dopo aver fatto stretching in modo regolare per un mese, potrai vedere i tuoi progressi. Inoltre, lo stretching prepara i muscoli per la prossima sessione di allenamento, che può essere dopo uno o due giorni. Inizia con 10 minuti di stretching per ogni ora di allenamento e cerca di coinvolgere la maggior parte dei gruppi muscolari che hai utilizzato durante l'allenamento. Allunga ciascun muscolo per 20-30 secondi e se senti che qualcosa non va, fai attenzione e rallenta. Forse stai esagerando. Per allungare i muscoli della coscia posteriore, siediti sul pavimento, allunga la gamba destra davanti a te e mantieni la dritta. Piega la gamba sinistra in modo che il piede sinistro tocchi il ginocchio destro. Ora piegati in avanti e cerca di raggiungere le dita dei piedi con la mano destra, così da allungare il tendine del ginocchio. Se non ci riesci, tieni lo stinco. Ogni volta che fai questo esercizio, cerca di andare un po' oltre e inclina in avanti tutto il busto, non solo le spalle. Fai lo stesso anche con la gamba sinistra. Per allungare i glutei, devi rimanere per terra. Piega la gamba destra e tieni il piede sinistro piatto a terra. Incrocia la gamba destra sopra la coscia sinistra e mantieni questa posizione. Tira entrambe le gambe verso la parte superiore del corpo, mantienile così e, dopo 30 secondi, fa lo stesso dal lato opposto. Per allungare l'inguine, siediti sul pavimento e lascia che le piante dei piedi si tocchino. Tieni le dita dei piedi e piega il busto in avanti, piegandoti ai fianchi. Per allungare la parte bassa della schiena, sdraiati su pino, piega le ginocchia e abbraccia gli stinchi. Avvicina lentamente le ginocchia al petto per sentire la parte bassa della schiena che si allunga. Per allungare gli addominali, devi sdraiarti sullo stomaco, con le mani sotto le spalle. Spingi la parte superiore del corpo dal pavimento e mantieni il bacino a terra. Allunga la zona anteriore dello stomaco. Inoltre, cerca di riposarti. I gatti trascorrono circa due terzi della loro vita dormendo. Sembra allettante, ma per noi è anche troppo. In media, noi passiamo solo un terzo della vita a dormire. Quando non dormiamo abbastanza, il nostro corpo non ha abbastanza tempo per riprendersi. Normalmente dovresti addormentarti in 10-15 minuti. E se sei davvero stanco, ci vorranno meno di 5 minuti. Cerca di non fare allenamenti intensi prima di andare a letto, perché potrebbero tenerti sveglio. Invece, se ti alleni in modo costante, allora dormirai meglio e la qualità sarà migliore. E questo è tutto.